Abbiamo detto che abbiamo in campo un nostro autorevolissimo candidato, Giovanni Donzelli, personaggio di rottura rispetto a schemi che vorremmo superare, sia rispetto a un centrosinistra rappresentato da Renzi che in realtà fa solamente gli interessi, le grandi lobby e le grandi concentrazioni economiche, sia rispetto a un centrodestra che troppo spesso non ha voluto essere competitivo in una regione come questa. Bisogna rompere tutti gli schemi, Fratelli d'Italia lo fa, mette in campo un proprio candidato di rottura e può vantare già l'adesione di 34 liste civiche nate in questi anni sul territorio, deluse spesso proprio dalle politiche di certa parte del centrodestra, che si uniscono per portare avanti un progetto comune. Chiaramente lanciamo il nostro appello agli altri movimenti per unire le forze, però su un progetto di rottura e non su un progetto consociativo con Renzi.